Siracusa, la rete civica della salute tra supporto alle vaccinazioni anti-covid e campagna sulla prevenzione. Proseguono anche per la campagna vaccinale anti-covid di autunno la presenza della rete civica della salute negli hub del Siracusano, presenza che, sottolinea il coordinatore provinciale RCS Andrea Romano, riteniamo di dover confermare anche risposta al prevedibile incremento delle vaccinazioni dovuto alla somministrazione delle terze dosi. Ma non è tutto. Alla riunione che si è tenuta l'ASP 8, diversi altri impegni sono stati presi con la partecipazione della dottoressa Lavinia Locurzio, direttore delle gestioni risorse umane e referente aziendale ASP 8 Siracusa della rete civica della salute, dell'avvocato Pier Francesco Rizza, presidente della conferenza dei comitati consultivi della regione Sicilia, e del dottore Andrea Romano, coordinatore provinciale della rete. Tra gli impegni in calendario e l'organizzazione, come già accaduto a Messina Catania, del meeting provinciale della RCS che consentirà per la prima volta nel rispetto delle normative anti-covid di incontrarsi in presenza, data e sede stanno per essere stabilite e comunicate. Si ripeterà inoltre in occasione del periodo natalizio la raccolta alimentare che è stata già realizzata nei mesi scorsi. Circa 15 volontari della rete saranno presenti nei supermercati della zona, mentre la distribuzione delle famiglie sarà assicurata dai frati Cappuccini.